L'Abruzzo è un territorio in cui i migranti hanno raggiunto un grado di integrazione talvolta superiore anche a quello di regioni del centro Italia e del nord. È quanto emerge dal dossier statistico Immigrazione 2018 uno strumento irrinunciabile di diffusione e analisi dei principali dati statistici sul fenomeno migratorio in Italia a partire dalla dimensione globale e più in particolare europea, presentato questa mattina nella Lamagna di Scienze Umane all'Aquila. Un'integrazione resa sempre più difficile e complessa dall'intolleranza religiosa che può essere affrontata però con il dialogo interreligioso e interculturale e la promozione di politiche e dei diritti umani. L'obiettivo generale del convegno è di far conoscere alla società civile, mediante i dati forniti dal dossier, le condizioni di vita degli immigrati. Sono 5 milioni i migranti irregolari in Italia che quotidianamente svolgono il lavoro e conducono una vita normale con la propria famiglia. Pare che negli ultimi tempi tutti sappiano di che cosa si tratti, parlano tutti di immigrazione, fino a pochi anni fa c'erano solo alcuni centri di ricerca che se ne occupavano. Allora l'Abruzzo si colloca in un contesto italiano e nel contesto italiano noi abbiamo la primazia, nel mondo siamo primi per disinformazione sul fenomeno migratorio. C'è una commissione parlamentare che se ne sta occupando. In Abruzzo paradossalmente si crede che sia una regione come è effettivamente del sud Italia e per quanto riguarda l'integrazione in realtà supera, sia dal punto di vista dell'integrazione lavorativa, sia dal punto di vista dell'integrazione sociale, supera alcune regioni del nord Italia e alcune regioni del centro Italia. Questo va detto perché in genere si pensa che il meridione sia il parente povero di questa penisola. In realtà i migranti in Abruzzo sono cresciuti dai primi anni 90 fino ad oggi quasi decuplicandosi, ma questo non ha portato a un disagio, ha portato a fenomeni di integrazione piuttosto importante, tant'è che gli immigrati in Abruzzo per due terzi, cioè il 65%, sono cosiddetti lungoresidenti, cioè sono qui da più di 5-10 anni e non hanno intenzione, come qualcuno dice, di tornare a casa, si sono radicati qui, hanno messo su famiglia, hanno fatto figli che vanno nelle scuole di ogni ordine grado della regione Abruzzo e contribuiscono all'economia abruzzese, soprattutto nel settore dei servizi, non ultimo anche il settore industriale nel quale nei dati è inclusa anche l'edilizia e non poco in agricoltura, soprattutto nel bacino fucense.